prontò parlo con il mago con il mago mago in senso donna c'è anche sì c'è l'avvocato non l'avvocata lei è esperta non è la sfera di cristallo come comunque lei una maga allora ho bisogno di un aiuto diciamo insomma io c'ho il mio vicino di casa l'ordio l'ordio da morire nel vero senso del termine ora è da qualche tempo che gli sta andando tutto male tutto male proprio tutto tutto ci ha avuto non lo so gli è morta la moglie ma poveretta però ci ha avuto un altro casino non lo so tradimenti cose allora vorrei sapere signora mago ma quanto morirà questo benedetto vicino allora guardi può morire anche domani se le va a tagliare la gola di persona non mi rompete i coglioni con queste cazzate ma